La Fondazione Querini Stampalia di Venezia nasce per un lascito ottocentesco che l'ultimo Querini di questo ramo familiare fece alla città, donando il palazzo con tutto quanto vi era contenuto. Oggi è un floridissimo polo di produzione culturale cittadina e internazionale, ospita una vasta biblioteca che tiene aperto fino a tardi la sera, una pinacoteca e un museo che permettono di ripercorrere varie fasi della storia veneziana e soprattutto di vedere come viveva una famiglia veneziana fino a tutto il Settecento. La Fondazione conserva anche una pinacoteca ricca di dipinti di Pietro Longhi, circa una trentina, e di Gabriel Bella, oltre 60, che illustrano alcuni aspetti di vita veneziana. In particolare quest'opera di Gabriel Bella del 1706 ci mostra la laguna ghiacciata. Le glaciazioni lagunari avvenirono più volte nel corso dei secoli, destando chiaramente la curiosità e l'interesse dei veneziani. Un evento raro, come abbiamo visto, e anzi sempre più raro, ma a fornirce ulteriore testimonianza è questa iscrizione del 1864, effettuata probabilmente da un gondoliere che effettuava servizio qui al traghetto di San Canciano e che recita eterna memoria dell'anno 1864 del ghiaccio veduto in Venezia che se sta sulle fondamente nove, scrive questa persona e si va fino a San Michel, cioè al cimitero di Venezia, come se fosse un liston. Questo signore ci narra che appunto il ghiaccio divenne quell'anno così spesso che era possibile passeggiarvi come se si fosse su un campo veneziano.